no andiamo dovrebbero essere aperti per noi i green post io ce l'ho tirare e ciao a tutti i agricoltori benvenuti in questo video adesso non so come me la giusterò con questo pezzo che sto registrando perché sono sto tornando da un acquisto grosso che ho fatto per questo canale qua per voi ragazzi perché ho comprato una bella cosa che voi vedrete verso dicembre credo dove svelerò cosa ho comprato ma fino ad allora rimarrete nel dubbio e con questo video qua voglio annunciare che ci sarà una sorpresa dicembre durante gli altri video magari in magazzino vedrete qualcosa di diciamo come si dice censurato alla vista e non saprete cos'è sono davvero eccitato per questo acquisto perché allora è costato un po molto di meno rispetto a quelli che ho trovato da altre parti un po difficile in questo video mantenere il segreto perché devo mantenere segrete a moltissime cose un po mi dispiace però lo faccio per il canale anche perché questo acquisto che ho fatto è diciamo che il 60 per cento l'ho fatto per il canale se no non l'avrei mai fatto questo acquisto questo acquisto questo acquisto sono davvero molto carico perché non vedo l'ora di arrivare a casa e e anche quando posso dire se no capito e niente ragazzi adesso finisce qua questo è un po un video così un video annuncio di sorpresa continuate a seguirmi assolutamente perché se no vi perderete queste novità ragazzi perché io qua io qua sforno novità perché se io apro un canale ragazzi io ci metto roba capito roba roba buona sostanziosa che ti fa venire la collina in bocca no non sono non è un canale youtube dove non lo so un po piatto no e voglio che sia un po movimentato voglio tenervi tenervi lì a guardare il mio video no mettere un bel like magari anche un commentino tattico se c'è un iscrizione al canale se proprio no ok ragazzi il video finisce qua non vi ho detto praticamente niente sì però funziona così spero che questo video che farò dopo andrà bene perché sennò tutto questo di questi mesi che dovranno passare prima della sorpresa non saranno servite niente però io mi auguro che serva a far crescere un po' questo canale ragazzi aiutatevi anche voi se volete se non volete dite a qualche amico di farlo e basta noi ci vediamo alla prossima ciao 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 in questo in questo momento la sorpresa è proprio qua dietro sorpresa è molto pesante vi dico già che non è una mietitrebbia e già qua qualcuno potrebbe intuire qualcosina e vediamo di non sbagliare strada meno male taglio la strada a tutti